Coccio Piero Bucchi, si aspettavano delle risposte che sono puntualmente arrivate sul campo, forse a mio modesto avviso una delle migliori partite di quest'annata a Dinamo, soprattutto perché è corroborata da una grande difesa che poi ha prodotto anche davvero un esploat dal punto di vista realizzativo. Questa squadra pian pianino sta prendendo corpo per quanto riguarda i tuoi dettami tecnico-tattici e tutti hanno un risposto presente. Credo che sia una buonissima base di partenza, nonostante le assenze. La squadra ha fatto una partita molto bella con Pesaro, volevamo fare un passo in avanti di intensità e di fisicità che la squadra è riuscita a fare e quindi devo dire che la squadra ha tradotto sul campo il grande lavoro che ha fatto durante la settimana. Quindi devo riconoscere i ragazzi tanto spirito di sacrificio, abnegazione, voglia di competere e questo è stato evidente nella partita con Pesaro. Frutto questo, ripeto, di un lavoro settimanale molto intenso e molto faticoso, quindi questo va a onore e merito dei ragazzi. In un campionato, mi pare doveroso sottolinearlo, che continua a stupire perché in effetti è un raggruppamento dove, l'abbiamo detto in termini di sospetti, si vince, si perde con tutti. Quindi bisogna stare sempre sul pezzo. Sì, è vero, è un campionato molto equilibrato, con tante squadre che si equivalgono e quindi basta veramente poco per riuscire a fare un risultato o perderlo per poco. Però ti devo dire che per noi credo che sia confermato il fatto che dopo la prima sosta abbiamo un po' cambiato faccia. Al di là delle vittorie e delle sconfitte la squadra ha una chiara idea di dove andare, sia in difesa che in attacco. Poi è chiaro che c'è una partita in cui riesce a farlo meglio, una partita in cui riesce a farlo meno bene perché ci sono anche gli avversari, ci sono le difficoltà, ci sono gli infortuni che ti portano ad adeguarti anche a nuove situazioni. Però ti devo dire che nel complesso della seconda parte del campionato, da novembre in avanti, sono moderatamente soddisfatto, non tanto per i risultati che questo poi pian piano ci darà al campo, che valore abbiamo realmente, ma sono però soddisfatto del sacrificio, dell'obbligazione che i ragazzi mettono in campo. Poi ripeto, ci sono anche gli avversari, ci sono anche le difficoltà che ti possono a volte privare di una vittoria, però nel complesso la squadra sta dimostrando unità di intenti, sta dimostrando coesione e ripeto, sa dove andare, questa è la cosa importante. Poi il campo ci dirà se saremo migliori o peggiori di Trento, che è una squadra molto buona, che sicuramente ha fatto anche lei grossi miglioramenti, però vado a Trento con fiducia perché la squadra in settimana si è espressa molto bene. A margine e in chiusura naturalmente, so perfettamente che tu parli della squadra nella sua interezza, però mi permetto di poter osservare a ragione veduta che la crescita di Chris Dow e soprattutto l'apporto che è arrivato alla panchina anche da parte di Massimo Chessa, che tu hai già sottolineato in settimana, danno la reale sensazione di questa coesione di squadra, che poi alla base è quella che ci serve. È vero, si chiama squadra appunto perché deve essere un gruppo, deve essere coeso, deve essere unito e appunto fare squadra. E ti devo dire che molto spesso i ragazzi che sono più sacrificati, molto spesso sono quelli che ci danno un grosso apporto in allenamento, domenica hanno avuto anche possibilità di giocare, ti parlo di Raspino e di Massimo Chessa, hanno dato un contributo veramente importante alla vittoria. E questo mi fa molto piacere perché, ripeto, spesso sono sacrificati e quando invece ho la possibilità di gratificare il loro lavoro con un buon minutaggio la domenica, questo mi fa piacere. Ultimissimo, ultimissimo, mi è piaciuto le pacche sulle spalle di Dachon che a un certo punto, insomma, entrava con una faccia differente. Tante volte sono le piccole cose che danno il segnale di come un coach interagisce con i suoi giocatori. Ma guarda, fortunatamente il rapporto con loro è molto buono, un rapporto molto di rispetto, di grande fiducia nei loro confronti. Io rispetto molto loro come persone prima di tutto e poi come giocatori, quindi c'è armonia, c'è serenità. Poi è chiaro che quando vinci stai meglio, quando perdi sei un pochino più incavolato, ma questo fa parte del gioco. Però è un gruppo sano con il quale se sto bene e si lavora bene. Grazie. Grazie.